Grazie. 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 Viva Urbani. Grazie. 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 Mi spiegate quello che c'è qua? Qui abbiamo un ragazzo straordinario, talentuoso, giovane, pieno di voglia di fare, con una crescita infinita perché sono sicura che spaccherà. Ha preparato un dolce straordinario e vi lascio lo chef che vi spieghi che cosa ha preparato per voi. Allora, questa è mousse al cioccolato fondente, 70%, base crema inglese, terra al cioccolato e un po' di sale che il tocco salato ci sta sempre. Base. Cooking with pets. Ragazzi, seguitelo perché è pazzesco, straordinario. Giallo Loves Italy. È molto, molto energia. Ma come è questa pasta? È eccellente, è davvero buona. È delizioso. Filippo Drago, come è andata Fancy Food con il re della farina di Castelvetrà? Il Fancy Food di New York è stato davvero un successo. Ho incontrato tanti artigiani che utilizzano le mie farine e quindi con loro ho scambiato idee, ho scambiato informazioni e nasce anche un nuovo progetto per far arrivare negli Stati Uniti altre farine sempre ottenute da grani coltevate in Sicilia e da quei grani che vengono cosiddetti grani antichi. Ma il pane di Castelvetrano lo sanno fare in America? In America il pane di Castelvetrano lo sanno fare assolutamente sì. La farina di Castelvetrano è la prima farina venduta negli Stati Uniti. Vi posso dire che ne cito uno per tutti, Rick Easton di Pittsburgh ma che panifica nel New Jersey, fa il pane nero di Castelvetrano come un tempo si faceva a Castelvetrano. Anche perché è un ragazzo, un artigiano molto curioso, è venuto a Castelvetrano, è stato in contatto con gli artigiani che sanno fare il pane nero e quindi ha veramente recepito e in questo momento attua la vera ricetta del pane nero di Castelvetrano. Agli americani cos'è che ancora si deve far conoscere della farina siciliana? Allora, gli americani cosa apprezzano della farina siciliana? I sapori. Quindi noi dobbiamo portare tutte le varietà dei grandi siciliani in America perché ogni varietà ha un sapore, un profumo e un colore diverso. Così come nel mondo dei vini e nel mondo dei forbangi. Però vi posso dire che gli americani veramente apprezzano, amano e sono molto curiosi e quindi questo è un progetto facile da attuare negli Stati Uniti. Ho anche un personaggio, una figura molto importante, un team molto importante, il team Gustiamo di Beatrice Uchi, fatto da tanti elementi, da tante figure che sono, che conoscono bene le mie farine e le comunicano e sono le figure giuste perché la mia farina trionfa e se trionfa la mia farina negli Stati Uniti sicuramente è in merito loro. Come è andato il fancy food quest'anno a New York? Meraviglioso, pieno di energia, abbiamo avuto una stupenda connessione con delle frequenze positive. C'è stato coinvolgimento da parte della nostra Italia meravigliosa, io ovviamente rappresentavo Giallo Zafferano Loves Italy e portiamo tutte le nostre qualità, il nostro prestigio, la nostra immensa voglia di continuare a creare connessioni con il mondo. Quindi viva la nostra Italia, viva questo buon cibo, viva la buona tavola e la condivisione e la convivialità. Per me è stato eccezionale con un'organizzazione fantastica. Fancy food, al bacio. Fancy food, al bacio. Fancy food, al bacio. Grazie a tutti.